Per la tua estate in città, un presidio importante sono le farmacie Venturelli e Perale a Belluno. Anche nel periodo estivo, l'ascolto, i consigli, le soluzioni, con il dottor Gianfranco Venturelli e il suo staff a tua disposizione. Sono tanti i servizi e con la Pharmacard tanti vantaggi. Farmacie Venturelli e Perale, a Belluno anche d'estate.